Cos'è anche lì? È un assalto! Ma cosa hai fatto? È un assalto! Perché ti sei messo a clonare tutti questi calamari, Luca? 3, 2, 1, via! Oh, eh... Si, partiamo! Oh, eh... Non ho già finito nel nulla! Aspetta, aspetta, aspetta! Dove siamo finiti? Mi sa che abbiamo trovato... Oddio! Un portale alieno che ci ha portato nel mondo vanilla di Minecraft! Ok, salve a tutti! Sono Spigiochi! Bentornati! In una nuova sfida! Dei Lucky Block giganti! In compagnia di Luca e Crypto! Questa volta abbiamo dei Lucky Block del futuro! Con degli equipaggiamenti veramente... No, non subito! Dobbiamo iniziare! Ma è sul suo! No, non spaccate nulla! Dobbiamo ancora iniziare! Mi raccomando, gente, cercate di non arrivare a 20 morti! Questa volta sarà ancora più facile del normale! Perché queste armi che troveremo saranno molto molto potenti! E diamo inizio subito alla sfida! 3, 2, 1... Vai! E si di inizio alla sfida! Uuuuh! Chissà quanta bella roba troveremo questa volta! Piano! Piano! Dai, 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 dai! Ma belli! A me piace! Eh, vabbè! Io ho già trovato qualcosa! Io ho già trovato... Anch'io! Oh, piano! Cos'è sta cosa? Io ho trovato... Sono cieco! Cos'è stato? Proprio un bel inizio! Complimenti a tutti quanti! Bellissimo! Oh, oh! Io ho già trovato... Oh, Dio! Oddio! Mi sono girato! Mi sono trovato alle spalle una casetta fortunata! Eh, vabbè! Cos'è? Come funziona questa cosa? Cos'è quella? No! Voglio venire a vedere! Ma dai! Ma fatti gli affari tuoi! Sempre a stalkerare gli altri! Cos'è sta roba, Espy? Come cosa? Cioè, ti è spawnata! L'ho vista da lontano! Che cosa? Ah! Ma come TNT? Ah! L'ho trovata la sorpresa! Ma sentato tu a metterla! Maledetto! Vieni qua! Vieni qua! Scusami! Non volevo fare anzi no te lo meriti! Uno slime gigante! Mi sa che sì, ti serve una mano altrimenti qua finisce molto male! Tranquillo Cripto tranquillo! Ah! Addio! Mi accredit- TNT ha lanciato... Ti do una mano! 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 Tanto! Ti do una mano! Ti do la mano! Ti do una mano! Ti do una mano! deboli per lui si vergognava a ucciderci vedi qui ma muoviti piano perché mi devo muover piano scusami c'è un creeper c'è un creeper che ha fatto per esplodere ho detto vabbè la mia fine ma poi si è fermato e quindi è tipo rimasto gonfio lo vedi magari aspetta se gli dai fuoco magari esplode lo puoi bloccare dobbiamo aiutare questo povero creeper che è bloccato ma cos'è quella è la bomba gigante cosa stai facendo no non hai ucciso solo lui te ne rendi conto guarda che disastro di fatto cripto mio dio la nucleare lì tira così la nucleare vengo io a portarti fortuna e si no ho picchiato un gol per sbaglio aiutami sciottalo sciottalo ti ringrazio a benissimo luca vai via con la tua fortuna vai via con la tua fortuna che mi ha fatto spawnare un blaze ma porca vieni qua ha preso me a me ha preso hai visto che c'è un blaze futuristico davvero ha preso te a te la cosa stai facendo basta portarmi sfortuna sul mio latino vai via vai via se li rompi te decisamente meglio se li rompo io mi stai rovinando tutto quanto e poi guarda adesso ho un conquilino che non voglio maldettissimo la tua fortuna mi è rimasta ecco ecco luca guarda che sfortuna che mi devi portare sul mio laki sono andato via io cosa vuoi tra poco a me ti propongo un patto visto che tu hai particolare sfortuna dato niente ha trovato qualcosa sul mio laki blocca espriveni a vedere arrivo arrivo non c'è bisogno di chiamarmi così già prima sono morto però so cosa sia non è che se lo uccido esplode succedono cose cattive ci trovo via ma ti sei e sapevo io e sapevo criminale a Bye bye mi interessa luca cripto ce l'ho a portata di tiro ma è luca che mi interessa cosa stai facendo non fare tutti quei casini del corpo in realtà stai buono non voglio farti del male luco che io sono soltanto qua aver mostrati questo piccone per portarti un po di guarda ma cosa è sta cosa chiedeva Vai giù ha detto tu luca dicevo sono qui per portarti un sacco di fortuna quindi andiamo No No Cos'è reato un aereo ma come un aereo luca ma ma cosa di guardato Cripto e qualche problema è direi di sì io lo sto colpendo io lo sto colpendo o piaccia di polli Guarda come la mia lucky sword ha fatto la differenza Cosa c'è di bello aspetta ma si può entrare o o o my voi potete entrare dentro. io non ci vado No tu vai tu giù no? cosa facendo? è una gara che cade No anche io No No è caduta ma le defender anche duva approfittare della fortuna dei miei lucky block giganti Ma non mi ha dato nulla Eh, vabbè, sei sfortunato Ah! Ok! Sì, sei decisamente sfortunato Dai, TNT! TNT ti ha buttato lo slime in testa No, veramente Non lo so, Crypto che sta cercando di morire In maniere più assurde Crypto, ho una chestplate da darti Guarda, è potentissima Da più 50 vita Ah! Prendi la prima che ti butti giù Crypto hai lasciato qui la tua chestplate Tranquillo, te la tengo per quando torni Oh, eccoti qua, Crypto, guarda Questa chestplate te l'ha conservata Tutta, tutta per te, provala Ah! Cosa? Prova? Pensa sia la chestplate di Flash Ma porca miseria, Crypto, tu hai i tuoi slime Sembra far casino Ok, guarda come butto Ah! Cosa? Ho spawnato un tempio greco E sono morto Ma come? Cosa? Ha degli spawner È una bella struttura È tipo un dungeon Vediamo, arriva anch'io No, no, no Se c'è qualche lucky block nascosto lo voglio soltanto io Oh, ma mi sbagliavo Qui ci sono un sacco Oh No, no, non andate Non andate Non c'è niente Non c'è niente Ah! No! Ahaha Troppo l'attesa E funzionato fin troppo bene Voi fate quello che volete Io vado a farmi un getto all'isola centrale Che è piena di lucky block Fortunati Io ti raggiungerei volentieri Però sono bloccato perché non ho più l'acqua Quindi mi sa che mi tocca saltare E prendere Vabbè, due cuori di danno sono accettabili Arrivo subito, Luca Non vi ho detto che però Possono essere o super fortunate O super sfortunati Mi piace il rischio E il pericolo C'è un po' di rischio, sì Ah, creeper! Chi ha aperto que... Crypt è passato di qua Ci scommetto quello che vuoi Guarda quanti creeper Guarda Guarda quanti... Ah! Ho rifatto tutto Qui c'è... Sì, una bella spadina Lo voglio io Quello lucky block L'ho visto da attraverso le finestre Dammelo Dammelo No, no Non farlo Non farlo Faccio, eh Non farlo Non farlo Ah, tranquillo Non lo farei mai Anche perché ho appena visto un... Lucky block Fortunato E tu hai rovinato tutto Ma sei un criminale Ma sono ancora vivo Perché sono... Espy Ma da quanto tempo? Ma cosa sei tornato qui? Mi ha appena un mezzo ucciso una volta No, un'altra nucleare No Davanti a me In faccia me l'hai tirata Ah, ecco Questa mi ha shottato Eh, specie cripto qua in giro Ha brutte intenzioni Armi troppo grosse E tu no, invece che quell'arma super strana Quasi laser Ma è piccolina Dove? Dove? Oh, lo vedo arrivare È lì con la sua spada Lunga non si è finito Dove? Oh, sono dietro di te Ti copro dall'alto Tranquillo Ah, sì, l'ho preso Espy, espy di qua Si arriva alla cima Uh, secondo me ci sono i più fortunati in cima Dai, speriamo di essere fortunati Oh, sì La cibo qui è piena di Sì Oddio, aspetta Ah Sì, ce l'ho Ce l'ho Ho trovato una Reagan Oh Cos'è che hai trovato? Sei a posto? Sì Sì, la voglio utilizzare contro cripto Ma Fermo Un'arma con ancora di usano Anzi, fammi provare Vediamo cos'è Ah Eh, vabbè, ma se si ammazza da solo Aspetta Aspetta Ok, voglio provare a su cripto Fermo Fermo, loca Cos'è questa cosa? No, dopo la usi Dopo la usi Cripto Boom Oh, se fa male quella cosa No, 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 no Luca Si apre la caccia È lì giù È lì giù Guardalo Adesso ancora più in giù Vieni qua Devo cercare di salire Devo recuperarmi al bacio No Dov'è finito? Dov'è finito? Espy, espy sta indietro Ti tiro la nucleare Ma come? Vai, vai L'hai mancato No, l'ho preso L'ho preso Oddio Mi ha preso Mi ha preso Che spettacolo Si è proprio meritato questa lezione Luca Luca dove si è finito? Ah Mi hai tirato Una pa... Ah Ma cos'hai un arco Spara Ma anch'io ce le ho queste cose Luca Dove si è finito? Eccoti Vieni qua Vieni qua Non ti preoccupare Che io resisto alle espressioni Bam Mamma mia No Mamma mia Tempesta Di palle di fuoco Boom Oh Oh sì Ho mezzo cuore No Venditi questo Andato? Oh finalmente Che succede? Qualche problema? Chi è che ha lanciato un creeper caricato? Luca Non azzardarti No Aiuto Aiuto Dove sei? Ok sono vivo Sono vivo Ma Guarda Crypto Crypto? Qualche problemino di ghast? Oh non ti preoccuparti Lo risolvo io Ok Andato Ok un ghast No Ma Ah Luca mi sta colpendo Questi ghast Luca mi sta colpendo Che fastidio Questi ghast No Non posso nemmeno colpire La mia unica chance È scavare Un tunnel In blocco di crypto Vai Vai Sì Sì Crypto Ok Ah Ah piano Salve signor blaze Non volevo svegliarla Cosa non ho trovato Cosa non ho trovato Qui sotto Porca miseria Crypto mi servo Ah che succede Ah Tappo forte Gente Ho appena Ho appena creato un tempio Andiamo Crypto Andiamo a investigare Ma guardate È uno spettacolo Finalmente mi sono spento Sì Crypto scusami se ti ho rovinato tutto il Lucky Block Ma che Che cosa hai fatto Hai un tuo giardino È un bel giardino Ah Ma è orribile Non fate esplodere Ok No No Luca No L'unica cosa che non devi fare È l'unica No Se vuoi proprio rovinargli la giornata Spacca un sacco di Lucky Block Così vediamo Ah che succede Ma ti ho scavato il Lucky Block Anche all'interno Crypto Espi Siete dei criminali Prendete questa No Vabbè io sono contento Ho fatto sotto piazza pulita Ma hanno fatto male a nessuno Mi sa che l'unica È fare No 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 Uno scontro Così Così No Così 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 Che cosa sta succedendo Eh vabbè Non stiamo esagerando un pelino qua Non stiamo esagerando giusto un po Forse Forse Oh ce l'ho fatta Sono riuscito a uscire usando il mio cannone Ho fatto Ho fatto un salto col cannone Bellissimo Tanto non puoi far nulla Tanto io puoi far Ah no Mi hai spinto di qualche millimetro in là E sono caduto Crypto cosa c'hai? Crypto Occhio agli spasmi Consente al suo medico Luca Non ci stiamo al suo medico Cosa succedendo Smetti la Tutto bene crypto No No Aia Aia Cosa Cosa Ecco che ha lanciato la nucleare Ecco che la Ancora Un altro aereo Basta Così Crypto Sei tu La causa del Morto così Dell'aereo Ora possiamo far pace E collaborare un po Posso spaccare qualche blocco insieme Ok Oddio Ma cosa Ma cosa sta Oltre l'aereo Anche una Una spiaggia Con una capanna Ma come ci facciamo le vacanze qui Crypto Ma non pensi di esagerare un po Questo però ha esposto l'aereo Sai cosa farebbe tanto male l'aereo? Hai avuto la mia stessa idea per una volta Luca Ti devo eliminare Vieni qua Non avevamo aprire i blocchi insieme Non avevamo aprire i blocchi insieme E' esploso Vabbè crypto visto che Luca se n'è andato Direi che possiamo aprire i blocchi Per conto nostro Oddio E vabbè ma a questo punto il mio lucky block non esiste più E' diventato Non lo so Un parco pubblico Cos'è questa cosa? Cos'è? Cos'è? Ma crypto dove sei? Crypto è rimasto sotto Ma poi avete visto che lì in cima ci sono Delle chest da aprire Davvero? Vado Sì Però non posso raggiungere nessuna maniera Porca mi Vieni qua Luca Luca se ci provi Ah cos'è quello il bastone Vieni qua Ah Tu ultimo bastoni magici Vieni qua Crypto non ci provi tu Oh è messo veramente la corona di TNT No Ragazzi Cosa c'è Luca non hai fatto abbastanza casini oggi Non sappiamo nemmeno Oh the lander Ho fatto una cosa bellissima Che cosa? Sono verso il quarto blocco Pensavo di metterle Verso il quarto blocco Sì ok Guardami Sul secolo abbiamo più spazio Sei trovato delle strutture particolari Mettile sul quarto blocco Che almeno possiamo vederle E esplorarle un po' Dai Luca Sono carico Piazza questa struttura Voglio vedere proprio cos'è Però poi attenzione Togliti che potrebbe essere un po' grande Oh Cos'è sta E vabbè Decisamente troppo grande Ha coperto tutto il Lucky Block Espi Espi Stai attento Ah son pini maledetti Aspetta aspetta che ricordano La lega Finale l'isola centrale Stai fermo Non fare nulla Senza mia utilizzazione Dove sei Apriamole tutti insieme Tutti insieme Arrivo Una fila di Lucky Block Una fila di Lucky Ecco E' perfetto Voglio spacca anche gli altri Pancari Spacca di tutti Spacca di tutti No Cosa sta succedendo Vediamo uno Due Ah Cosa Dove sono Dove sono Ah eravamo in alto Stiamo cadendo Stiamo cadendo In alto Siamo piano piano Vedo la terra Acqua 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 No Allora Facciamo una sfida Tutti avete un piccone No Ho questo E' considerato un piccone Va bene Mamma mia Fermo Non si Cos'è 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 Daccelo subito Altrimenti Ti buttiamo Cos'è quella cosa Luca Cosa fa Cosa fa Ah È uno sparamob Ha trovato uno sparamob Ma spara Polipi È la cosa più inutile Che io abbia mai visto Da me i calamari Stanotte Sono in slow motion Sembra di stare su Matrix I calamari Hanno fatto un ponte Ah Guarda Si sono sblocati Ma che schifo hai fatto Ma accendi qui Cos'è anche lì Pino di polpi Ma cosa hai fatto È un assalto Ma Ma che razza di Lucky Block Del futuro sono È pieno di polpi No adesso Luca Tu pulisci quello che hai fatto Cos'è sto disastro Ok Ma me lo pulisco Io fermo Bam Risotto Ok siete pronti a questa sfida L'obiettivo È sfondare questo muro Anzi questo cubo di Lucky Block Arrivare fino Aspetta All'altra parte Senza morire Tutto Tutto Dretto Quindi Pronti 3 2 1 Via Si partiamo Sono già finito nel nulla Quindi mi sa che Torniamo subito la nostra sfida Aspetta 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 Dove siamo finiti Nel mondo di Minecraft Siamo finiti il mondo vanilla di Minecraft C'è un portale Aspetta forse il portale Per tornare Nel Lucky Block Stai scherzando Veramente Anche una skin diversa Espi Che tensione Crypto Degli end portal Ma cosa ce ne facciamo Di due Di questi end portal Trovarne altri Espi Sicuramente Ce ne saranno Quelle si trasformate In una gita A caccia di Lucky Block Il mondo reale Ok Speriamo di trovarne qualcuno L'ho trovato Così Guardalo 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 Cos'è? Aspetta 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 Ma quello bello Doviamo trovare altri due End portal Ok gente Allora io lo spacco Cos'è che ho preso? Ma No Aspetta Sì Erano degli end portal Anche questi Vuol dire Che è la nostra chance Per tornare Penso di sino Ben 17 Quindi allora Li posiziono qui Giusto E portale Sia Ha funzionato Si è aperto Ok gente Abbiamo la possibilità di tornare Le nostre lucky block Buona fortuna Speriamo che funzioni Andiamo Prendi un po' di rincosta E Via Uno Dove Siamo tornati i nostri spawn Siamo tornati Sì Possiamo continuare Nostra sfida Finalmente Potete venire qua E farvi prendere Aspadati Ok pronti a ricominciare Andiamo Prontissimi Tre Due Uno Via Dai Sì La fine ho raggiunto Ma cos'è questa cosa È un demone Prendetelo Sto tirando un sacco di uova Sì L'abbiamo shottato Penso di aver vinto La sfida Perché sono stato l'unico Che ha raggiunto L'altra parte Luca è tipo Si è costruito una trappola Da solo Prendiamolo A quasi A morti Crypto Quasi Quasi a venti Ma dove si è cacciato Questo maledetto Ha paura della sua ventesima morte Scommetto Sono qua su Luca Cosa stai facendo lì in alto No non farlo Dai Mi butto Dobbiamo essere noi Ucciderti Non puoi farlo tu stesso Fermati Noi ti volevamo soltanto aiutare Luca Non puoi farci questo Via scappa Non potete aiutarmi Non potete aiutarmi No tutte quelle nucleari Cosa non hai facendo Oddio Quante se ne stava tenendo da parte Per questa cosa Si sta sciogliendo No Cosa hai fatto alla nostra mappa Luca Era tipo 10 E lo vedo Lo vedo benissimo Nonostante tutto quello che hai fatto Sono ancora vivo Ti rendi conto E sono pronto al duello finale Con cripto Oh si Crypto preparati Dove sei finito maledetto Dove ti sei nascosto Oh ecco ti qua Sto arrivando Ti prendo Oh si Oh si Guardi Sono anche i pulmini Andando una mano No 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 lasciami Porca miseria No che cadono Che cadono Ok io ci sono Tu dove sei finito Adesso ti bersaglio No fermo Allora Ti faccio scegliere Visto che Visto che io sono Un gentiluomo Ti faccio scegliere Allora puoi scegliere Tra questa Questa O questa qui piccolina Quella piccolina Grazie Mi capo Ti dimenticavi Anche questa qua Ma Un regalo di patrimonio Oh grazie Mi hai sciottato Non puoi approfittare Mentre raccogliarmi di Luca Colpa di Luca Mi ha distratto Il combattimento Più breve Quindi gente Questa era un'altra sfida Dei lucky block giganti E il vincitore È stato Crypto Mamma mia L'unica cosa Che si è salvato È stata questa chiesa Con un piccolo campanile Ah per il resto Tutto è esploso Luca Hai dovuto Dovinare pure quella Quindi diteci con un commento Chi è secondo voi Il vero vincitore Di questa sfida Dei lucky block giganti Lasciate tantissimi piaci Se volete Un altro episodio Alla prossima Ciao ciao